Buongiorno e ben ritrovati con l'informazione sulla nuova tv. Questo è il nostro spazio dedicato alla rassegna stampa e web. Prima di andare a vedere quali sono le notizie di oggi diamo un'occhiata alle attese e previsioni del tempo. Buongiorno e ben ritrovati sulla nuova tv con un nuovo appuntamento medio a cura di Meteo 7. Oggi domenica 21 marzo ritroviamo ancora una volta tempo perturbato su tutta la regione data la discesa di aria fredda che sta imperversando sulla nostra regione e precipitazione che arriva da sud ovest. Un mix esplosivo per abbondante nevicate a partire da 7-900 metri su tutta l'area, soprattutto sull'area meridionale della nostra regione dove stanno cadendo diversi centimetri di neve. Che cosa succederà nel proseguo? Fino all'ora di pranzo avremo precipitazioni diffuse su tutta la regione, nevose a partire dai 7-900 metri, ma poi nel pomeriggio sembra che ci sia un timido miglioramento. Nelle prossime ore le temperature saranno in diminuzione per l'arrivo di nuova aria fredda che ci terrà compagnia almeno fino a metà settimana. Quindi poi da stasera e ancora di più da lunedì mattina ritroveremo una meno 5 a 1.400 che ci farà piombare di nuovo in inferno e ci saranno estese gelate. Per adesso è tutto, vi auguro una buona domenica e per saperne di più consultate l'app di Meteosette e il nostro sito meteosette.it. A tutti voi una buona domenica. Dopo le previsioni a cura di Meteosette andiamo a vedere quali sono le notizie del giorno. Partiamo dal nostro sito, la Nuova Net. In apertura c'è il caso Claps, raccolte già quasi 5.000 firme per chiedere alla Chiesa la verità sul ritrovamento del corpo di Elisa. Ha raggiunto dunque quasi le 5.000 firme. La petizione è lanciata sulla piattaforma change.org per chiedere al Vescovo di Potenza, Salvatore Ligorio, di fare chiarezza sulle vicende inerenti al ritrovamento del corpo nella Chiesa della Trinità di Elisa Claps, la sedicenne potentina uccisa il 12 settembre del 1993 per mano di Danilo Restivo. La petizione, come sapete, nasce all'indomani della diffusione della notizia da parte della cura potentina di voler restituire al culto la Chiesa della Santissima Trinità di Potenza dove il 17 marzo 2010 vennero trovati i resti di Elisa e dopo aver appreso il mancato assenso da parte della famiglia alla decisione della stessa. In particolare il comitato costituito da uomini e donne di potenza e non solo chiede un atto concreto da parte della cura, una restituzione della verità, una parola di scusa senza la quale il comitato si opporrà alla riapertura al culto della Chiesa della Trinità, la petizione verrà inviata anche a Papa Francesco. Sulla nuova net ora andiamo a vedere gli aggiornamenti sull'emergenza Covid. Muore una novantenne all'ex Donuva di Potenza dove sono attualmente 25 gli assistiti nel reparto Covid della RSA Potentina. Intanto in regione con questo nuovo decesso si tocca quota 394 vittime. Sul nostro sito trovate anche il bollettino completo con i dati di ieri in attesa del bollettino di oggi. Sono 145 gli ultimi casi accertati a fronte di 1524 tamponi processati e ancora una volta il virus si fa largo al San Carlo. C'è il terzo focolaio in una decina di giorni all'interno della struttura ospedaliera del capoluogo. Quattro i pazienti che hanno contratto il virus tutti asintomatici ma c'è pure un ospite ultra novantenne recatasi all'ospis e ben tre infermieri di cui uno non vaccinato per sua scelta. E nel Melandro una trentina di casi scoperti tra Picerno e Satriano. Ed ora dai dati sull'emergenza coronavirus vi diamo un aggiornamento sulla somministrazione dei vaccini in Basilicata nel servizio di Mariolina Notar Giacomo. È rimasta operativa nonostante la neve la tensostruttura donata dal Catare allestita al San Carlo di Potenza per effettuare le somministrazioni dei vaccini. Ben 400 gli anziani che hanno sfidato il maltempo per ricevere la seconda dose e per chi non ha potuto recarsi al presidio l'ASP fa sapere di aver allestito nuovi calendari con la ripresa delle operazioni già lunedì e martedì prossimi. Ma ci sono centri come Tricarico e anche Lauria in cui la campagna vaccinale per gli over 80 non è ancora partita. Nel distretto del Lago Negrese con circa sette paesi rimasti indietro è stata promossa una petizione dopo le sollecitazioni insistenti del sindaco di Lauria Lamboglia. Anche se come rivelano i dati diffusi dalla fondazione Gimbe per le vaccinazioni agli over 80 la Basilicata si posiziona solo dopo il Trentino Alto Adige. Il 27,4% ha già ricevuto il ciclo completo. In Italia poi la media nazionale delle persone vaccinate si attesta al 3,92% mentre in regione sale al 4,83% e quella lucana si attesta alla prima nel meridione. Non mi accontento di questi dati, ha commentato il governatore Vito Bardi. Dobbiamo fare di più, cominciamo a vaccinare gli over 80 in alcuni comuni ancora scoperti. E contiamo sull'arrivo delle dosi Pfizer assicurate dal commissario per il Covid figliuolo. Sono riprese le somministrazioni AstraZeneca ai docenti, compresi quelli universitari. Nella città di Matera sono cominciate quelle ai detenuti e si prosegue con le vaccinazioni agli over 80-150 le dosi che saranno utilizzate nella città dei Sassi. Vaccino AstraZeneca anche al commissario Covid figliuolo e al capo della protezione civile Curcio. Mentre in Basilicata sono circa 74.000 le fiale inoculate dalla Vio della Campagna. 344.000 le dosi del vaccino di Moderna in arrivo in Italia, nel lab militare di pratica di mare. Le fiale saranno poi distribuite alle regioni. Si tratta finora del più grosso carico singolo fornito da Moderna e slittato invece quello delle dosi AstraZeneca in Italia, il cui carico in Basilicata è atteso a metà settimana prossima. In tutto sono state 612 su 642 le dosi di Siero Pfizer somministrato agli over 80 richiamati per la seconda dose. Lo fa sapere l'ASP che ha diffuso il dato anche per i vaccini AstraZeneca. Quelli iniettati al personale dell'Università a Potenza sono stati 176 su 210. E ritorniamo sul nostro sito e parliamo ancora di vaccini over 80. Siamo secondi per dosi somministrate ma dobbiamo fare di più. Come rivelano i dati Gimbe per le vaccinazioni agli over 80, la Basilicata avviene solo dopo il Trentino Alto Adige, quanto evidenziato in una nota dal governatore Lucano Vitobardi che prosegue i dati elaborati da Gimbe sulla base di quelli del Ministero della Salute, evidenziano come il 22,6% abbia ricevuto la prima somministrazione mentre il 27,4% ha ricevuto già il ciclo completo. In Italia poi la media nazionale delle persone già vaccinate si attesta al 3,92% mentre in Basilicata sale al 4,83% prima regione tra quelle del Meridione. Non mi accontento di questi dati, dice il governatore Bardi, dobbiamo fare molto di più e ho sollecitato le strutture competenti, da oggi si iniziano a vaccinare gli over 80 in alcuni comuni ancora scoperti e dalla prossima settimana ci concentreremo sulle prime dosi per tutti gli over 80. Ancora sul tema vaccini possiamo andare a leggere quest'altra notizia, il maltempo non ferma, i vaccini, il plauso di Guarente a protezione civile ed acta, il sindaco Mario Guarente ha espresso la propria gratitudine al personale comunale e volontari della protezione civile del Comune di Potenza, così come a tutto il personale acta che dalle 5 di ieri hanno operato senza soluzione di continuità per garantire l'accessibilità ai siti nei quali sono proseguite le operazioni di somministrazione dei vaccini, come vediamo qui nella foto anche in questa situazione emergenziale, evidenziato il sindaco alla quale si è sommata l'avversità delle condizioni meteo, le decine di persone che da mesi quotidianamente si spendono per garantire servizi indispensabili alla nostra comunità hanno dimostrato professionalità e senso del dovere. e ancora in merito ai vaccini per gli over 80 sono proseguite le somministrazioni nonostante il maltempo e l'ASP fa sapere che i cittadini che a causa delle avverse condizioni fossero impossibilitate a recarsi presso la tensostruttura davanti il San Carlo a Potenza potranno recuperare le vaccinazioni lunedì 22 e martedì 23 marzo secondo i nuovi calendari che saranno comunicati a breve. Ora parliamo del comparto del mobile imbottito, l'aumento del costo delle materie prime e la concorrenza asiatica stanno mettendo in difficoltà il settore. Sentiamo Fabrizio Di Vito. Le aziende del mobile imbottito sono strette nella doppia morsa dell'aumento vertiginoso dei prezzi delle materie prime e della concorrenza delle imprese asiatiche che hanno superato le restrizioni dovute al Covid. L'assessore alle attività produttive del comune di Matera Giuseppe Di Giglio ha scritto al ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti per sollecitare l'attenzione sul fenomeno dell'aumento ingiustificato di alcune materie prime legname più 35%, metalli più 50%, poliuretano più 45%, pellame più 15%, tessuto più 10% e plastica più 6%. Il comparto del mobile imbottito materano, costituito da aziende leader nel settore dell'arredamento, oltre a subire danni dalla forte instabilità dei mercati internazionali, evidenzia Di Giglio, si trova a dover gestire le conseguenze ed ingiustificati aumenti di alcune materie prime di trasformazione. Gli squilibri provocati sullo scenario economico mondiale hanno fatto registrare, a partire da settembre 2020, incrementi percentuali insostenibili dei prezzi delle materie prime impiegate nel processo produttivo del settore. I rincari evidenziati sono riconducibili a diversi fattori concomitanti, in particolare le imbottiture e gli imballaggi realizzati da derivati del petrolio stanno risentendo dei prezzi imposti dalle compagnie petrolifere che operano di fatto in regime di oligopolio. C'è poi un fattore strettamente connesso alla pandemia che ha finito per favorire imprese asiatiche in paesi dove l'emergenza sanitaria è ormai sotto controllo, le quali hanno potuto fare incetta di scorte disponibili lasciando al palo le aziende europee ed italiane. La capacità produttiva del distretto materano, conclude Di Giglio, rischia di essere sopraffatta dagli aumenti speculativi dei prezzi delle materie prime. E torniamo sul nostro sito, leggiamo questa notizia, giornata della memoria e dell'impegno. Come ogni anno il 21 marzo si ricordano le vittime delle mafie ma sarà sicuramente diversa dalle altre edizioni a causa dell'emergenza Covid ma come anche quest'anno ogni 21 marzo riecheggeranno anche in Basilicata i nomi delle 1031 vittime innocenti delle mafie in occasione della 26esima edizione della giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti di tutte le mafie dal 2017 la giornata riconosciuta ufficialmente dallo Stato. Come sempre in Basilicata le iniziative saranno promosse dal coordinamento regionale di Libera e le varie sedi territoriali, ci saranno delle staffette della legalità organizzate online mentre i nomi delle vittime di mafia echeggeranno attraverso la voce di studenti, docenti, forze dell'ordine e semplici cittadini. Il Comune di Potenza aveva dato l'autorizzazione per leggere i nomi davanti alla chiesa della Santissima Trinità con Gildo Claps, fratello di Elisa. Purtroppo a causa del maltempo non sarà possibile farlo ma l'appuntamento in memoria di Elisa in quel luogo è solo rimandato. Andiamo a leggere un'altra notizia sul nostro sito. Andiamo nella sezione Matera Città. Allora la pagina non si apre. Andiamo a vedere invece le notizie nella sezione Potenza Città. Il 26 marzo trasporti urbani a rischio, in sciopero i lavoratori della trotta, avvertenza trasporto pubblico urbano a potenza, proclamato il secondo sciopero di 24 ore per il 26 marzo di tutti i lavoratori della società trotta bus, lo fa sapere la Will Trasporti, dato che neanche dopo il primo sciopero di 4 ore effettuato l'8 marzo, la società ha convocato la segreteria per cercare un accordo per la soluzione delle criticità evidenziate dai lavoratori. Già chiesta al sindaco Guarente una convocazione per discutere tutte le problematiche, il sindaco nel condividere le segnalazioni pervenute dalla Will Trasporti si è preso l'impegno di trasferirle alla trotta bus e convocare a stretto giro un incontro con sindacati e società, pur illustrando il programma di investimenti in procinto di essere realizzati per migliorare il servizio. Lo sciopero di venerdì prossimo si articolerà per i servizi su gomma dalle 7 alle 10.30 e dalle 15 alle 17.30, mentre per le scale mobili e gli ascensori dalle 7 alle 10 e dalle 20 alle 23. e rimaniamo a Potenza per parlare dell'iniziativa Ascoltiamoci della libreria Sogna Libro. Sentiamo Alessandro Panuccio. Nuovi inizi per la libreria motivazionale di Potenza Sogna Libro in Viangilla Vecchia 43 a partire da mercoledì 24 marzo, non solo luogo di letture ma anche di ascolto per chi volesse condividere pensieri, ansie, preoccupazioni, fragilità e disagi determinati da questo momento difficile che accomuna tutti. Sarà possibile intraprendere un percorso di crescita personale sotto la guida di Angela Di Maggio, coach professionista nonché titolare della libreria. L'iniziativa dello spazio Ascoltiamoci in realtà si va ad inserire un po' sul sulco delle attività che la libreria Sogna Libro ha già attuato negli anni scorsi. È una libreria aperta da 4 anni ed è appunto una libreria motivazionale quindi questo spazio Ascoltiamoci è un modo per rafforzare quello che già normalmente facciamo e che in questo momento particolare abbiamo bisogno di dare l'opportunità a chi ne avesse voglia di avere uno spazio all'interno del quale potersi ritrovare e potersi far ascoltare perché è un momento difficile e quindi qualche fragilità, qualche momento di disagio tutti lo stiamo attraversando quindi poter parlare con un coach o con una coach professionista in qualche modo può alleviare queste fragilità. Il giorno scelto è il mercoledì, il giorno di Mercurio, il pianeta della comunicazione, delle nuove idee, della concretezza e ce n'è bisogno dopo un anno come questo. All'inizio è stato complicato perché ovviamente le persone che erano abituate a venire in questa libreria lo facevano proprio con la serenità e la rilassatezza di potersi fermare e parlare. Vedere le persone che entravano velocemente, distrattamente non è stata una cosa piacevole per me e per il mio percorso, però è anche per questo che nasce lo sportero di ascolto proprio perché ho bisogno di ripristinare un po' quella che era la mission di Sogna Libro e adesso riesco a farlo con una competenza in più e con una maggiore predisposizione all'ascolto. Gli incontri non hanno una finalità terapeutica ma di supporto per individuare le difficoltà e condividere strategie per affrontarle e superarle. Potranno essere l'occasione per fermarsi e dedicarsi del tempo incontrando se stessi nell'ascolto. Sarà possibile prenotare al 339 29 14 627 scrivendo una mail a sognalibropz.com o inviando un messaggio sulla pagina Facebook di Sogna Libro. Quella che accende l'interruttore in una stanza buia ti dà l'opportunità di vedere delle cose che ci sono intorno e che magari distrattamente tu non vedi più. E siamo allo sport, parliamo di calcio. Il Potenza attende il Biceglia, il Viviani volontario in azione per liberare il campo dalla neve. Quella in programma oggi alle 15 allo stadio Viviani di Potenza. È una partita fondamentale in chiave salvezza per il Rosso Blu. Lo scontro diretto casalingo contro il Biceglia infatti vale una buona fetta di stagione. Vincere e conquistare i tre punti permetterebbe ai ragazzi di Mister Gallo di cancellare la sconfitta di Avellino di mercoledì scorso arrivata dopo cinque risultati utili consecutivi e provare a fare un passo importantissimo verso la permanenza in Serie C. Partita che con tutta probabilità si giocherà nonostante l'allerta neve sul capologo Lucano. Nella mattinata di ieri tanti volontari armati di pala si sono adoperati per liberare il campo dallo spesso manto bianco che lo aveva ricoperto. La società ha voluto ringraziarli con una maglietta come vediamo qui nella foto. Per quanto riguarda la Serie D è stato rinviato a lunedì il derby tra Francavilla e Picerno. Andiamo a leggere nel dettaglio la Lega Nazionale Dilettante a seguito delle avverse condizioni meteo e gli accordi tra le due società ha disposto il rinvio di 24 ore della partita Francavilla-Picerno originariamente fissata per oggi alle 14.30. La gara è stata rinviata lunedì 22 allo stesso orario al Fittipaldi. La decisione è stata assunta a causa delle condizioni del campo completamente innevato a seguito delle precipitazioni delle ultime ore e quindi reso impraticabile. Prima di passare la linea alla pubblicità vi ricordo la nostra promozione prima ti abboni più risparmi. La nuova del Sud torna con la versione digitale ad un prezzo straordinario solo 29 euro se ti abboni entro il 31 marzo e leggi fino al 30 giugno. Ed ora ci fermiamo per la pubblicità. Siamo Ezio e Rocco Calciano e il nostro panificio pasticceria ha ben 40 anni di attività. Ogni nostro prodotto è realizzato secondo una tradizione totalmente artigianale priva di semi lavorati e conservanti. Il punto di forza dei nostri prodotti è il lievito madre. Rinfrescato 4 volte al giorno ogni 4 ore garantisce morbidezza, fragranza, profumo e conservabilità del prodotto finale. La nostra produzione comprende panettoni, colombe, panvasotti e biscotti. Calciano SRL e viale Regina Margherita 40, tricarico. A volte basta un gesto per dare inizio ad una storia a colori fatta di emozioni, scelte, fiducia. Una storia che va costruita passo dopo passo insieme a chi da oltre 40 anni costruisce il futuro. E non importa di quanti capitoli sarà, perché basta essere scritta con passione, curando ogni dettaglio, per dare vita ad un finale che in realtà sarà solo un nuovo inizio. Con Pascale Arredamenti la tua comodità è in buone mani. Ed eccoci ritornati in studio per la lettura delle prime pagine dei quotidiani regionali e nazionali oggi in edicola. Partiamo dalla Gazzetta di Basilicata, questo il titolo di apertura. Bardi accelera sui vaccini agli over 80 e lo abbiamo sentito prima, il Covid spunta anche all'ospis. Policoro intanto è osservata speciale e rischia di diventare la quinta zona rossa. I dati del Ministero elaborati da Gimbe dicono che la Basilicata è tra le regioni dove è più alta l'incidenza della vaccinazione sugli anziani. E poi la fotonotizia è dedicata a Potenza e alla Ciac della notte più lunga dell'anno. Per cinque giorni la casa è diventata un set cinematografico. Più in basso si parla di lavoro, c'è la Will che commenta i dati IMSS. Sono 821 mila le ore di cassa integrazione soltanto a febbraio. E poi la fotonotizia che riguarda il maltempo. A Potenza cade tanta neve in città ma senza grandi disagi. Spazzaneve e spalatori in azione dal primo mattino di ieri. Passiamo alla prima pagina del Quotidiano del Sud. Il titolo di apertura è dedicato all'emergenza coronavirus. Vaccini over 80, Basilicata seconda. Ma ci sono altri 151 casi positivi. La regione è anche la prima del Sud per percentuale di persone immunizzate. Non ci sono rinunce a Matera per la ripresa delle vaccinazioni con le fiale di AstraZeneca. E poi a Potenza un focus su Covid e poveri. Così è cambiata la sofferenza. A Matera il centro d'anza resiste al virus in punta di piedi. Andiamo più in basso. Caso Claps, la petizione è verso le 5.000 firme. Il Comitato per Elisa chiede alla diocesi verità e scuse alla famiglia della ragazza uccisa sulla riapertura della Trinità. Dunque l'iniziativa su internet che continua a raccogliere consensi. Andiamo alle prime pagine nazionali. Questa è la prima pagina del Corriere della Sera. Il titolo vaccini, il caso degli anziani. Il governo chiede alla regione di accelerare. Gelmini dice che ora si cambi passo. La seconda dose è solo al 15% degli over 80. La prima a meno della metà. E su AstraZeneca ci sono nuove disdette. Passiamo alla Repubblica. Vaccinare non licenziare. Il segretario della CGL. I lavoratori vanno immunizzati entro l'estate. Critico le misure su occupazione e precari. Questa invece è la prima pagina della stampa. Vaccini, la svolta è vicina. Ma l'Italia dei colori resta. Il domani immuni ma pericolosi. Ecco perché la mascherina serve anche ai vaccinati. Il vaccino azzera il rischio di sviluppare forme gravi di Covid ma il virus entra comunque nell'organismo e per un breve periodo può essere trasmesso agli altri. Concludiamo con la prima pagina del mattino. Napoli, fuga dei prof dal vaccino. Un docente su tre ha rinunciato al siero a AstraZeneca. Cappio adesioni tra le forze dell'ordine. Medici, infermieri e over 80. Riduzione dei contagi e sintomi lievi dopo la somministrazione. La nostra rassegna stampa si conclude qui. L'informazione sulla nuova tv torna alle 10 con il nostro TG Flash. Poi alle 12 nuove edizioni del TG Flash e alle 13.50 il consueto appuntamento con il nostro TG. Grazie per essere stati con noi e buona giornata. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti